Cinco sirenitas te llevarà Chi sono io? Una donna qualsiasi. Scrivo versi. Lavoro come insegnante. Cammino tutti i giorni per le stesse strade. Ripeto gesti sempre uguali. Dico sempre le stesse parole. Alfoncina è una scrittura. Una mujer che non vivi le norme che avevano di acceptare le donne e il suo tempo. Una luchadora feminista, mi sembra. Che ci sono apparece. Pronto a tu lato. Nosotros agarramos un libro, donde hay poemas que habla de amor y todo, se nota realmente muy moderno. come che non... Passano i anni e è atemporale. È superatemporale. Su visione con respecto al amor. che non mi sembra. Mi chiamano Alfonsina. Non mi sembra. Mi chiamano Alfonsina. Nome arbo che significa disposta a tutto. Quindi, buon hombre, pretendemi Nibia, pretendemi Casta, pretendemi Alba. Non mi sembra. Oh!